Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con RacingTime, il TG dei motori. Volevo fare un po' prima la puntata ma faccende meccaniche mi hanno tenuto lontano dalla telecamera. Allora, ci siamo ragazzi domani, prove libere 1-2, noi dovremmo essere in diretta come al solito sul nostro secondo canale, tra l'altro ci sarà un mattia più operativo. Però oggi che cosa si fa? Oggi si fa la solita passeggiatina per il paddock. Ci siamo? Ragazzi, tra un po' vedremo tutte le novità che i vari team hanno portato. Considerate che secondo me, per quanto sono numerose, ci vorrà un mesetto per analizzarle tutte, visto il trittico noi, trittico di gare, perché adesso c'è Spagna, poi subito dopo abbiamo Austria e poi Silverstone. Visto questo trittico potentissimo di gare, sarà ben difficile avere il tempo di analizzare tutte le novità che ci sono. In realtà non tutti portano novità, addirittura c'è un pilota su una vettura che torna alla vecchia specifica, cioè a quello che aveva tra le mani prima di Imola, quindi particolare, molto singolare. Comunque parleremo di questo e di tanto altro dopo la sigla. Prima di iniziare la puntata, ragazzi, volevo ringraziarvi per la reazione che avete avuto, per quel che riguarda la richiesta di aiuto per il piccolo Mario. Ho pubblicato, e lo farò anche qui, come commento in evidenza, il link per poter contribuire a questa richiesta d'aiuto, quindi grazie veramente. Ancora una volta dimostrate di essere un canale top degli iscritti, top veramente. Rendete davvero speciale questo canale. E allora, iniziamo con la più classica delle immagini che arriva di solito al giovedì, quando un po' tutti cosa fanno? Prendono le auto e le parcheggiano dentro i box. Tra l'altro c'è una tendenza, no? Che è soprattutto qui me l'aspettavo, ovvero tutti i team tendono ad aspettare l'ultimo momento, ovvero le 11 di domani mattina, per scoprire le proprie carte. Che domani alle 11 usciranno tutti i documenti ufficiali, eccetera, eccetera. Quindi lì non ci si potrà nascondere più, anche perché in vettura devi montare le specifiche nuove per poter affrontare poi le prove libere 1. Qua ci saranno tantissimi team che avranno qualcosa di nuovo, grande o piccolo, che sia tranne un team che invece è tornato indietro. Parleremo anche di questo. Comunque l'immagine classica è questa, cioè quella che si riferisce alle ali posteriori. E possiamo vedere come tutti i team abbiano scelto una soluzione da medio-alto carico, ma non poteva essere, altrimenti visto il layout della pista. Curve dove l'aerodinamica e il carico aerodinamico contano tantissimo. Cambi di direzione, curve a lunga percorrenza, ma molto veloci, dove l'appoggio laterale è fondamentale. Pensate a curva 3, un tornantone a larghissimo raggio, il lunghissimo raggio dove tu entri in quinta ed esci in settima, ma poi anche le altre curve non sono da meno. Quindi è logico aspettarsi un carico aerodinamico di questa portata. Ma se ci avete fatto caso, l'ala della Ferrari non è esattamente come quelle che abbiamo visto nelle due versioni, Monte Carlo e il resto della stagione, appunto in questo 2024. Facciamo una premessa, non è semplicissimo notare le differenze, soprattutto per un occhio non allenato. E di fatti poi durante il corso di questo weekend vi farò vedere, per esempio, anche un'altra differenza che riguarda sempre un team a caso veramente minima a livello di riscontro visivo, ma che può essere davvero importante per quel che riguarda la guidabilità della vettura, il carico aerodinamico e quello che dà poi in termini di performance. Però ci arriveremo al momento giusto, ovvero dopo le 11 di domani. E allora, andiamo a fare un confronto a questo punto tra quelle che sono le tre configurazioni alari che ha mostrato la Ferrari fino ad oggi, per vedere un po' di cogliere le differenze. E allora, guardiamo qui con l'aiuto della manina. Qui abbiamo la configurazione segnata dalla manina della Spagna. Vedete? Anzi, facciamo una cosa, iniziamo con quella classica, quella che ha utilizzato la Ferrari per tutta la stagione. Ho scritto Canada qui, ma potremmo comunque andare a scrivere tutto il 2024. Perché? Qui notiamo una curva del cucchiaio molto morbida e soprattutto, se andiamo a guardare la corda, quella visibile, che attenti può variare in base all'altezza con la quale viene scattata la fotografia, perché se io vado più in alto a scattare la foto, quindi prendiamo un pochino con le pinze questa freccetta qui, però quello è, ecco, varia un po' lo spazio che troviamo. Comunque qui notiamo una corda del primo elemento dell'ala posteriore molto ridotta, relativamente ridotta. Poi abbiamo Monte Carlo, vedete? Qui il cucchiaio presenta una curva più accentuata qui per andare poi giù dritto, quindi va a contenere molta aria il profilo principale. E poi, qui come potete vedere, la corda è maggiore e maggiore qui e maggiore soprattutto in questa zona. Ragazzi, io mi scuso se le linee non sono perfette, le frecce non sono perfettissime, però quello so fare con Word, tra l'altro lo faccio, quindi immaginatevi un pochettino. Qui in Spagna abbiamo una via di mezzo, perché invertiamo la manina, che viene meglio a controllare tutto. Se ci fate caso, il cucchiaio scende con una curva un po' anticipata rispetto a quella di Monte Carlo, però poi va giù in maniera abbastanza simile a quanto abbiamo visto nell'ala del Canada. Diciamo che quest'ala nuova, questa è l'ala nuova di cui vi ho parlato diverse volte, è una via di mezzo, tra quella lì ad alto carico e quella a medio carico, vista praticamente fino al Canada. E appunto, ragazzi, ne viene fuori un'ala a medio alto carico, che è quello che la pista di Barcellona necessita per avere un buon appoggio aerodinamico. Tra l'altro dovremmo in casa Ferrari sviluppare un po' di tenuta in più, che ci darà la modifica del fondo, coadiuvata anche da altre parti della vettura. Un po' di punti di carico aerodinamico in più e appunto possiamo andare con un'ala che ha una buona penetrazione, una buona efficienza sul dritto, il dritto di Barcellona che non è cortissimo, ma che garantisce un buon appoggio della vettura in curva. Poi vedremo pure quello che faranno gli altri. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa. Aston Martin, avrei in realtà potuto continuare con Ferrari, però ripeto, preferisco arrivare alle 11 di domani per una questione di coerenza. Poi altra cosa che sicuramente avrete letto, anzi altre due, ve le dico veloci veloci, controlli di routine al motore Ferrari, soprattutto per quel che riguarda il box di Leclerc, tutto in teoria sotto controllo, sono state utilizzate delle precauzioni su entrambe le vetture, incrociamo le dita, non dovrebbero esserci problemi. In teoria qui su questa pista non dovrebbero, in teoria, sorgere più problemi nemmeno al discorso dell'impianto frenante. E questo è uno. Poi altra cosa, questo diventa un meme, ragazzi, infatti ve lo dico giusto per farci una risata, anzi ve ne dico due, perché una mi ispiro a un commento. Niente, allora, notizie di oggi, dai, serve anche, come dire, apprezzare come si è tenuto l'interesse vivo per quel che riguarda questo discorso. Allora, Aston Martin gli ha fatto fare un giro a Adrian Newey per la fabbrica. Questo gli avrebbe chiesto 30 milioni a stagione, Stroll è svenuto e gli ha detto non te li do. Ed è uno. Quindi Newey per avidità non andrà in Aston Martin. A quel punto Toto Wolf ha detto a me, una questione di soldi è quello che si dice in giro, allora che cosa fa? Torna all'attacco e cerca di accaparrarsi Adrian Newey. In tutto questo vedremo cosa farà la Ferrari, perché questa è una delle versioni. Un'altra versione che è la più interessante l'ho letta nei commenti. Adrian Newey, tenetevi forte, qui non sto scherzando, è stato visto in Sicilia, ha firmato per la selezione nazionale ai piloti. Gli darò 300 euro al mese, ma lui ha detto sì. Ecco, così abbiamo chiuso pure per oggi il discorso Newey. Vediamo che cosa poi salterà fuori domani. Andiamo avanti. Allora, Aston Martin, guardate qui come sono andati in giro con un telone che copriva la parte posteriore della vettura. Per quale motivo? Perché loro ragazzi faranno degli esperimenti importanti in FP1, guardate quanti rastrelli hanno montato in quella zona della vettura, cioè tanti tubi di pivot che serviranno appunto a cogliere come quello che è il funzionamento dei flussi aerodinamici in quella zona della vettura e quindi studiarli di conseguenza. Poi abbiamo detto in apertura che c'è una vettura che invece farà un notevole passo indietro, in realtà lo farà solo con un pilota. Stiamo parlando di Joe Wanyu, finalmente ho invertito i nomi, che guiderà la vettura che gli dava più fiducia, ovvero quella pre-Imola. Poi a Imola la vettura, la sua monoposto è cambiata, lui non si è trovato più con gli aggiornamenti perché la vettura era eccessivamente rigida nelle sconnessioni. Magari andava a sviluppare qualche punto di carico aerodinamico in più, però comunque lui non riusciva a guidarla. Addirittura ha detto che in Canada si è girato senza un vero motivo perché la vettura ha preso una sconnessione, si è alzata in aria ed è partita in testa coda. Quindi non si sente fiducioso sulle nuove specifiche e ha voluto tornare a quelle vecchie. Vedremo se andrà meglio o meno. Infine vi voglio far vedere, ne abbiamo parlato nelle scorse tanto tempo fa in puntata, di questi lavori che sarebbero stati fatti nel paddock di Barcellona e di fatti hanno messo, se ci fate caso, le tettoie alle terrazze sopra i box. Poi abbiamo la nuova torre di controllo, tra l'altro veramente bella. E infine guardate qui, la famosa colonnina dei tempi con i numeri e via discorrendo, è cambiata. Questa è nuova, quindi restyling per quel che riguarda la pista di Barcellona. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata, spero vi sia piaciuta, ci rivedremo, spero in prima serata, oggi non voglio fare tardi, poi dico così ma non ci riesco mai. E nulla, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta, se è così lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto. Vi lascio con lo stacchetto finale, ciao, a dopo.